ciao a tutti e bentornati al canale oggi siamo di nuovo qui per parlare di centrali elettriche portatili in questo caso abbiamo la centrale elettrica della all powers la ss 007 è una piccola centrale elettrica che ha un prezzo anche abbastanza popolare siccome ho visto che molti di voi lamentavano il fatto che le centrali elettriche portatili avessero un costo iniziale abbastanza sostanzioso in questo caso abbiamo una centrale con un prezzo decisamente più popolare l'introduzione era per farvi vedere un pochino la differenza sostanziale tra il passato e il futuro o presente cioè il passato sono le batterie agm secondo me perché è una tecnologia che ormai in questo genere di contesti personalmente reputo veramente ormai superata questa batteria pesa 30 kg è una batteria da 100 per ora con delle performance possiamo dire tranquillamente inferiori rispetto a una batteria con la tecnologia al litio effettivamente questa batteria contenuta all'interno dell'all powers ha una capacità di 40 ampere ora a 12 volt ma sono 40 per ora sfruttabili molto di più rispetto ai 100 ampere ora di una batteria agm quindi non c'è solo un discorso di differenza di peso e di ingombro di maggiore vita della batteria al litio ma c'è proprio un discorso di maggiori performance anche ad amperaggio inferiore comunque questo è un argomento molto tecnico che eventualmente vi invito ad approfondire per conto vostro è un argomento molto lungo da affrontare quindi questa qui è una piccola centrale elettrica portatile come vi dicevo quindi se non vi è chiaro ancora di che si tratta è un impianto fotovoltaico completo praticamente manca solo il pannello solare che dopo andremo a vedere assieme quindi mentre qua dobbiamo avere anche qualche competenza per installare un regolatore di tensione e un inverter e tutti i cavi avere come vi dicevo una certa competenza per realizzare un piccolo impianto in questo caso non dovete fare altro che collegarvi ed è già tutto pronto abbiamo tutti gli ingressi tutte le uscite ed è tutto qua quindi non dovete fare praticamente nulla adesso andremo a vedere più da vicino esteriormente che cosa offre questa centrale elettrica ma prima di tutto parliamo di quello che c'è dentro non possiamo fare tutto 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 ok con questa centrale elettrica non possiamo farci andare la lavatrice con questa centrale elettrica non possiamo farci andare un forno e non possiamo farci andare neanche un asciugacapelli è un piccolo impiantino quindi se non volete spendere una cifra eccessiva se quello che vi interessa è far funzionare le luci di una baita di una barca di un camper o degli elettro utensili a batteria o un piccolo frigorifero o altre cose comunque considerate che l'inverter all'interno di questa centrale elettrica portatile è 500 watt di erogazione costante 1000 di picco quindi i 1000 li può tenere per un certo periodo breve ma voi dovete fare affidamento sui 500 watt quindi regolatevi su questo l'inverter è un'onda sinusoidale pura quindi stiamo parlando di un inverter di qualità è integrato ovviamente anche il regolatore di tensione interno il bms battery management system per la gestione delle batterie e quindi voi con questo apparecchio non vi dovete preoccupare di problemi di sicurezza di gestione della batteria perché ci pensa tutto lui adesso andiamo a vedere però cosa offre esteriormente allora esteticamente è un oggetto carino ma non possiamo dire che sia a livello di design l'oggetto più figo del mondo comunque allo stile di una classica batteria io credo che la cosa che caratterizza questo prodotto sia proprio la praticità e l'essenzialità abbiamo un bel maniglione comunque per trasportarlo con della gomma sotto quindi anche i dettagli sono stati ben curati abbiamo due piccole luci led che possiamo attivare quando ci pare qua abbiamo gli input quindi gli ingressi per la ricarica con pannello solare o tramite un altro jack l'uscita per il cavetto accendisigari da questo lato abbiamo tre uscite usb e una usb type c attenzione perché questa cosa secondo me è veramente molto molto utile soprattutto se la utilizzate abbinata al vostro impianto che magari avete già o assieme ad altre centrali elettriche portatili cioè tramite l'uscita usb type c possiamo anche ricaricare la centrale quindi abbiamo questo semplicissimo sistema di ricarica che ci permette di poterla utilizzare anche come batteria extra ausiliaria abbiamo due uscite tramite questi due jack davanti due uscite per la 220 un piccolo display che si attiva quando voi schiacciate questi bottoni ok quindi abbiamo tantissime modalità di ricarica di questa centrale tramite la presa type c tramite il suo alimentatore che viene fornito che è questo qui che comunque non vi consente una ricarica rapidissima oppure tramite input solare oppure tramite presa accendisigari allora il display è davvero molto essenziale vedete vi dice i watt in ingresso e i watt in uscita la percentuale della batteria vi saluta ciao e sono pulsanti cliccosi io li definisco cliccosi cioè li schiacciate non sono touch non c'è un display touch dovete schiacciarli ok quindi ecco per esempio questa qui è la corrente alternata la corrente alternata se voi schiacciate il pulsante della corrente alternata non si attiva immediatamente ma dovete tenerlo premuto verrà fuori qua un piccolo segnale vedete che adesso si è attivata la piccola ventola dell'inverter se volete spegnerlo lo tenete premuto e si spegne vedete che segna un consumo di 6 watt questa centrale molto onesta perché vi dice anche il l'assorbimento del suo piccolo inverterino che c'è all'interno quindi tutte le centrali hanno un inverter che assorbe corrente se voi lasciate la centrale con l'inverter attivo tutto il tempo senza avere una fonte di ricarica la centrale si scaricherà ok spegniamo l'inverter adesso spento questa è vedete qua invece basta un click breve un click breve attiviamo le uscite a 12 volt vedete che viene fuori il simbolo della presa usb e vabbè in questo caso è ancora attiva in questo caso ci viene fuori anche il simbolino della corrente continua ok basta tutto qui semplicissimo poi questa centrale ha anche la possibilità di essere controllata da remoto ma attenzione tramite bluetooth non tramite wifi quindi se voi tenete premuto questo pulsante vedete il simbolino bluetooth e quindi voi a distanza di in base al segnale bluetooth che sarà penso adesso non so esattamente penso una trentina di metri li tenga tranquillamente potrete gestire tutta la centrale elettrica tramite tramite la sua applicazione dedicata quindi potremo accendere le luci attivare l'inverter spegnere la corrente continua e gestire tutto quanto ma adesso facciamo qualche rapidissimo test di funzionamento per vedere che questa piccola centrale funzioni con gli apparati che noi ci aspettiamo di far funzionare se rispetto alle nostre aspettative queste sono due batterie di elettro utensili attacchiamo ok i watt cominciano a salire 62 140 watt di assorbimento o 185 ok adesso si è stabilizzato e regge tranquillamente la ricarica di due batterie di elettro utensili e batterie vedete che a 160 watt ha un'autonomia di circa tre ore e mezza ok adesso proviamo il frigorifero il compressore è partito 100 watt 34 il frigorifero come sapete ha uno spunto molto alto poi dopo si stabilizza vedete quando si stabilizza ai 30 watt l'autonomia aumenta fino ad arrivare alle 19 18 ore ora in questo momento ho collegato sia le batterie che il frigorifero e la centrale sta reggendo senza alcun problema però vi devo dire che ho rilevato qualche problema cioè delle volte l'inverter sembra saltare col frigorifero deve essere successo qualcosa l'inverter scattava come se non reggesse il picco del frigorifero ma in realtà il picco del frigorifero dovrebbe essere facilmente gestibile da questa piccola centrale elettrica portatile non so darmi una spiegazione precisa attualmente funziona tutto come si deve colleghiamo anche le batterie vedete arriva ai 400 watt di assorbimento 479 ci avviciniamo diciamo al picco nominale funziona tutto correttamente questo però ve lo devo dire prima quando ho attaccato il frigorifero delle volte l'inverter è scattato niente in conclusione il frigorifero funziona correttamente ma mi è capitato delle volte che l'inverter saltasse quindi questo è un aspetto che andrebbe un pochino approfondito questo che stiamo per fare adesso è un test che ovviamente è un risultato abbastanza scontato un flessibile con un assorbimento da 860 watt difficilmente potrà funzionare vediamo cosa succede ok vedete si avvia perché il picco è di 1000 ma l'inverter stacca ora ho acceso tutte le lampadine della baita quindi 5 lampadine assorbimento totale 22 watt tempo residuo stimato con batteria al 70 per cento 22 ore 27 minuti quindi capite perché per illuminare una baita tenendo tutto l'impianto acceso siete tranquillamente a posto lo regge senza alcun problema utilizzando l'uscita dell'accendisigari riguardo alla ricarica tramite pannelli solari questa centrale si può ricaricare tramite il vostro impianto quindi con qualsiasi impianto supporta l'ingresso un massimo di 200 watt se non volete usare il vostro impianto c'è l'impianto portatile progettato da loro vi dico che questi pannelli secondo me sono i migliori che ci siano in circolazione a livello di pannelli solari portatili vi spiego il perché semplicemente perché è un progetto veramente molto semplice e praticissimo un pannello solare portatile deve essere pratico prima di tutto non vi deve far tribulare per aprirlo trovare la giusta posizione deve essere semplice e intuitivo questo rispetto ai pannelli della concorrenza che ho provato sono veramente facilissimi da sistemare e leggerissimi poi davvero molto leggeri non si tratta altro che di aprire qua il velcro aprite il pannello dietro al pannello sono presenti due staffe attaccate tramite velcro basta il vostro pannello è già pronto ok quindi capite che anche piazzare due pannelli in serie è veramente semplicissimo questi sono pannelli da 100 watt l'uno 100 più 100 200 e ricariciamo la nostra centrale elettrica portatile potete stare anche un pochino più su potete anche prendere dei pannelli da 110 120 tanto difficilmente riusciremo a raggiungere un 100 per cento di rendimento oggi non c'è il sole vediamo cosa riusciremo a ricaricare è quello che vi voglio dimostrare veramente la rapidità con cui si aprono e si piazzano questi pannelli avete visto quanto tempo c'è voluto per aprirli pochissimo sono veramente ottimi in questo preciso istante abbiamo 9 watt in ingresso considerate che sta piovendo vedete basta spostare un pochino 10 watt comunque non c'è sole non c'è sole quindi non possiamo testare appieno la ricarica tramite pannelli solari siamo giunti al momento delle conclusioni e dei prezzi allora parliamo dei prezzi il prezzo della centrale è intorno ai 500 euro euro più euro e meno in base alle offerte che riuscirete a trovare i pannelli solari stanno se non erro a 150 euro il pannello da 100 watt cosa possiamo dire della centrale mi ha soddisfatto appieno allora la centrale devo dire che è un'ottima centrale se ne volete fare l'utilizzo per il quale è stata progettata quindi per far funzionare un piccolo impianto a 12 volt per le luci per ricarica di smartphone laptop e tutta attrezzatura elettronica tramite prese usb va benissimo anche per far funzionare la ricarica di batteria di elettro utensili e anche un piccolo frigorifero stop io direi che quello che si può fare con questa piccola centrale è questo aspetti negativi di questa centrale allora ho rilevato che alcune volte non reggeva la tensione del frigorifero l'invertere saltava non capisco come mai una volta avviato poi funzionava regolarmente comunque questo per correttezza è giusto che ve lo dica poi un altro difetto che ho rilevato è che quando voi caricate la centrale al 100% una volta che è accesa lei ha un calo dal 100% al 90% è come se arrivasse a una specie di soglia di galleggiamento e si fermasse lì al 90% io non credo che questo influisca sulle performance del nostro strumento credo che sia semplicemente un difetto di calibrazione probabilmente perché poi una volta arrivato al 90% l'autonomia torna diciamo fedele a quello che si vede sul display ecco quindi questi sono i due difetti che ho rilevato riguardo i pannelli solari ripeto secondo me sono forse i pannelli solari migliori in circolazione per quanto riguarda la praticità la leggerezza se vi interessano i pannelli solari portatili credo che questi siano il top e quindi sono veramente ben progettati comunque vi lascio i link in descrizione se volete dare un'occhiata e volete approfondire vi ricordo di iscrivervi al canale mettetemi un like e fatemi sapere un po come come vi sembra questo oggettino tanto piccolo e leggero che dovrebbe semplificarvi un pochino la vita ci vediamo al prossimo video un saluto da luca ciao